Si è svolto questa sera lo show cooking dell'edizione 2019 di Sanremo con gusto, ormai tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla rete d'impresa San Ramon con il comune di Sanremo. Al Teatro dell'Opera la presenza della giuria formata da Carlo Cracco e Maurizio Santini insieme alla madrina dell'edizione 2019, ovvero Miss Italia Carolina Stramare, si è svolta la classica gara tra gli chef, sicuramente il momento clou di questo festival che terminerà domenica. Uno spettacolo vero e proprio, quello di ieri, dedicato al mondo del cibo, otto chef provenienti da diverse regioni d'Italia che si sono confrontati a suon di piatti sul tema cibo e territorio. Un cast di altissimo livello e cibo legato ai territori italiani declinato a 360 gradi, quattro giorni fino a domani dedicati al mondo del cibo con show cooking, il villaggio dei produttori, padiglione slow food, menu a tema nei ristoranti e punta di diamante ovviamente il festival di ieri. Tra i componenti della giuria appunto Miss Italia Carolina Stramare che torna nella sua Sanremo. È la mia seconda città, io sono nata in Liguria, sono nata a Genova e ho il papà che vive in Liguria quindi è la mia seconda città. Quali aspetti da questo festival degli chef? Beh io sono una miss un po' atipica, io non seguo diete, sono una buona forchetta quindi ho alte aspettative assolutamente. Troppo facile la domanda, come è cambiata la tua vita da quella sera? La mia vita è cambiata radicalmente, è cambiata la mia quotidianità, è cambiato il mio modo di vivere le giornate da quando mi sveglio a quando mi addormento. Ormai non ho più orari, anzi ho calendari, le mie amiche quando mi contattano mi dicono caro mandami il tuo calendario così ci organizziamo per vederci perché non sono più reperibile. Il giorno dopo la tua elezione abbiamo sentito un po' di gente a San Lorenzo al mare, la tua seconda città Ligure e ci hanno detto però che tu assolutamente non sei quasi una Miss Italia perché sei una persona molto alla buona e lo stai dimostrando anche adesso. Sì, io spero di continuare a dimostrare questo aspetto del mio carattere, spero di potermi far vedere per quella che sono e dimostrare che Miss Italia considera tanto l'estetica ma mi considera anche un qualcosina di più. Spero di poter dimostrare di avere dei contenuti, di avere degli interessi, di avere alle spalle una cultura che mi può aiutare in questo percorso e sono fiduciosa. Come è andata invece la tua prima a San Lorenzo al mare? La mia prima a San Lorenzo al mare non c'è ancora stata, spero, mi auguro ci sarà domani mattina perché sono arrivata in Liguria dopo la premiazione stasera e ho visto adesso papà e mi auguro che domani io possa avere modo di salutare i miei cittadini. L'ultima cosa, il tuo sogno da grande, cinema, televisione e quant'altro? Allora da grande lo sottolino sempre tra le virgolette perché fino a tre mesi fa ti avrei risposto l'architetto, ora che ho intrapreso questo percorso ho scoperto doti che non credevo di avere davanti alla telecamera, quindi mi auguro che questo cammino continui, spero di poter seguire questa avventura che ho intrapreso e ripeto sono molto ottimista. Questa sera è in programma il Galà del Festival degli Chef al Roof Garden del Casinò, un evento dove gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dagli chef Carlo Cracco e Maurizio Santino al costo di 120 euro a persona. Sempre oggi e domani a Piendinave ci sarà il villaggio dei produttori con assaggio e vendita di eccellenze da tutta Italia, un villaggio che rimarrà aperto fino a tutta la giornata di domani.